In bocca per il direttore di gara che dice che ci possiamo divertire perché inizia Epomeo soluzioni calciacinque Secondo il direttore di gara Ortega nella caduta Fatto sta che ora attacca l'Epomeo con Giuseppe Buono Con la costruzione soprattutto dal basso Simonetti Del giudice Simonetti Castagliolo la tocca Bifulco Viene incontro Codardo Butta giù la rete il 55 E poi l'ha rimesso dal fondo e poi l'Epomeo che parte con Cantieri e con De Neso La lucidità Intanto Ortega recupera Ortega 1-2 Poi Bifulco che avanza Ortega su di lui esterno bellissimo Veneruso col tocco sotto pallo E il pallone non è entrato Giuseppe Buono sul punto di battuta Dice Mister Vuoso giriamo Il tocco però è per Ortega Col tacco Mal ha preso Aprile L'Epomeo Con Ortega che chiama il pallone e lo tiene Corpo a corpo con Bifulco Ortega Sposta Ortega Aprile Di Codardo Castagliolo De Neso Per il 4-1 De Neso poi vuole Ortega Si è addormentato la soluzione Poi Simonetti Bifulco Veneruso Simonetti Traversa Apre bene Codardo Ancora Simonetti Poi Coppola Forti Mezzo Castagliolo E alla fine C'è il 5-2 Del capitano Simonetti Per il cross Gosen In qualche modo Poi Codardo Per il 5-3 C'è Ortega Che pallone Per Diorio Che ha messo largo Simonetti Che spiazza Castagliolo Simonetti Castagliolo E arriva 1 Arriva 2 Arriva 3 Il direttore di gara Dice che può bastare così È l'epomeo Che batte 5-4 La soluzione